La scia di condensa può durare tanto, può durare poco a seconda delle condizioni che ci sono in quota, se c'è un forte vento possono assumere anche forme molto particolari, infatti si vedono delle scia di condensa circolari. C'è un'altra cosa che volevo chiedere, lei giustamente mi dice che ci sono queste situazioni, però mi spiega perché secondo lei naturalmente c'è un aereo che parte e fa una scia lunga, poi si gira e torna indietro, poi si rigira e torna indietro, poi fa un giro, cioè non ha niente altro da fare quel pilota? Fino ad oggi non ho mai visto un video che mi mostrasse un aereo che fa il suo percorso, poi a un certo punto fa un giro a U e torna indietro come se stesse in realtà passando sotto una città, io non ho mai visto una cosa del genere, io le scia chimiche credo le scia chimiche, le scia di condensa. Credo che neanche non abbia mai visto Dio, ma magari ci crede. C'è anche chi ci crede, ma io sono uno scienziato e mi devo attenere a quello che è un agnostico, insomma. Cioè nel momento in cui mi si mostrerà una scia di condensa o scia chimica a seconda di chi è interno, una scia diciamo, che sopra una città va in una direzione, poi l'aereo fa una virata a U, ripassa, poi fa un'altra virata a U, ripassa, eccetera, allora potrò iniziare a interrogarmi su cosa sia in quel caso. Ma fino adesso nemmeno, per dire, i fratelli Marciano, che sono per i versi i guru delle scia chimiche in Italia. Non solo, non solo, ce ne sono molti scienziati in tutto il mondo, che è molto saggi, sì sì no, molto saggi, che si sono posti molte domande davanti a queste cose e hanno cercato di dare una risposta. Grazie a tutti.